Bassano, imperativo categorico proteggere l'ambiente e averne cura, cominciare dalle emissioni degli impianti di riscaldamento. Per questo c'è tempo fino al 30 aprile per partecipare al bando indetto dalla Regione Veneto, rivolto ai privati cittadini per ottenere un contributo per la sostituzione di generatori di calore e domestici, alimentati a biomassa, legno o pellet, con apparecchi a basse emissioni e ad alta efficienza. Gli interessati potranno consultare il portale della provincia Cambiamo Aria. Grazie a tutti.